Buonasera, ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Una ventina di studenti francesi sono rimasti intossicati, si tratta di un gruppo in gita scolastica. Ce ne parla in questo servizio Grata Settimelli. Sono state 20 le persone che hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo per una sospetta intossicazione alimentare. Si tratta, secondo fonti sanitarie, di un docente, una ventina di studenti in età adolescenziale, tutti francesi. Il gruppo fa parte di una comitiva di circa 60 persone partiti dalla Francia alla volta di Roma. Secondo gli accertamenti, i ragazzi che hanno fatto accesso al pronto soccorso avevano sintomi compatibili con una sospetta intossicazione alimentare, le cui cause sono in corso di accertamento. I ragazzi pare che prima di partire abbiano consumato un pasto nella loro menza scolastica 48 ore fa, ma ovviamente non è certo che questa sia la causa. Circa 40 le persone che facenti parte del gruppo e che non presentavano sintomi di alcun tipo sono stati momentaneamente ospitati all'interno dell'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo. E adesso torniamo a parlare del brutto episodio di cronaca avvenuto durante la partita degli esordienti regionali tra Ponte d'Era e Arezzo. Oggi a parlare è il direttore generale del settore giovanile a Maranto, Paolo Bertini. Ascoltiamolo ai microfoni di Chiara Sadotti. I genitori devono stare da parte, devono sostenere i ragazzi per quanto riguarda ovviamente la pratica sportiva, ma devono lasciare che i ragazzi si divertano. Questa roba non deve succedere. Si era appena conclusa la partita quando il padre di un baby calciatore ha rifilato uno schiaffo all'arbitro della gara, peraltro anche dirigente dei padroni di casa, finito al pronto soccorso con un taglio al sopracciglio. È successo la scorsa domenica dopo la partita Ponte d'Era e Arezzo nella categoria esordienti regionali 2011, un grave episodio che si è consumato davanti agli occhi dei ragazzi a margine del match. Non possiamo consentire che succedano queste cose in ambiente soprattutto di scuola calcio, una roba che non deve succedere e anche serve questo forse anche per lo spunto, per dare un freno non soltanto ad episodi violenti, ma anche ad una serie di atteggiamenti che ovviamente non sono tollerabili. Cioè i genitori che anche durante la partita possano in qualche modo alzare la voce, intromettersi in queste cose, sono robe che non devono succedere. Per cui ho preso provvedimenti, nel senso che incontreremo i genitori del gruppo interessato, ma il messaggio va veicolato a tutti i nostri gruppi. Se questi episodi si dovessero ripetere, non soltanto violenti, ma anche aggressioni verbali, episodi che appunto non sono, sono episodi che non verranno tollerati dalla società. Quindi ho detto e darò disposizione ai nostri tecnici per quanto riguarda soprattutto la scuola calcio, quindi i più piccoli, di ritirare la squadra nel caso in cui ci siano questi episodi di interperanza, perché sono robe che non devono esistere nel nostro settore giovanile. Ancora cronaca furto da poche centinaia di euro alla Chimet di vice omaggio. I gnoti hanno fatto eruzione nella notte tra il 10 e l'11 marzo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 5 persone, dopo essersi aperti una breccia nella recinzione, sarebbero riusciti a fare irruzione all'interno dell'area dei laboratori. Da qui avrebbero asportato alcune taniche contenenti del solvente per un valore complessivo di circa 500 euro. Una scelta decisamente strana che ha fatto appunto pensare agli inquirenti ad un blitz andato male, visto lo scarso valore del materiale sottratto. È invece plausibile che i ladri stessero cercando dei contenitori con metalli preziosi. A mettere in fuga i ladri ci hanno pensato l'impianto di allarme e la videosorveglianza di PM allarmi collegato alla centrale dei vigili giurati. Questi ultimi hanno poi avvisato i carabinieri dell'accaduto. Nella stessa notte a quanto pare sarebbe stata anche rubata una vettura, utilizzata presumibilmente dai ladri per fuggire. L'auto è stata poi rintracciata qualche giorno dopo il colpo dei responsabili dell'irruzione. Invece ancora nessuna traccia e le indagini stanno ovviamente andando avanti. E adesso parliamo dell'industria e della moda perché cala la produzione, cresce la cassa integrazione nel settore. Ma Arezzo è l'unica isola felice per la moda in Toscana. Vediamo. Cala la produzione, le esportazioni e inevitabilmente anche la domanda di lavoro. In crescita solamente le ore di cassa integrazione. E l'industria della moda toscana ad essere in affanno, secondo l'istantanea, è scattata da Irpet, un quadro grigio dal quale però spicca la tenuta della provincia di Arezzo, unica isola felice. Nei primi nove mesi, in controtendenza ai dati regionali, infatti, ha messo a segno una crescita dell'export sia di abbigliamento più 7% che di pelletteria più 9% e soprattutto di scarpe più 16%. Un dato importante, un dato che ovviamente registra il dato annuale. L'ultimo trimestre anche Suarezzo ha dato un segnale appunto di rallentamento, ma come era tra l'altro normale, crediamo, insomma, ci aspettavamo che fosse. E quindi è comunque, diciamo, un dato molto positivo che premia le imprese, che ovviamente poi le principali, che hanno sede sul nostro territorio, che hanno avuto, insomma, degli esploi internazionali importantissimi. Ovviamente, uno su tutti ricordiamo Prada, dove Suarezzo ha fissato la grandissima parte della propria produzione, ma anche appunto nelle province intorno, e che ovviamente può essere direttamente il lab che fa e procede alle esportazioni. Se brilla però l'industria retina della moda, l'export diminuisce complessivamente del 4,4%. Voglio dire, comunque è una, diciamo, fotografia di tenuta, rivedo che solo per l'ultima parte dell'anno, però sta registrando anche con un aumento di ore di cassa integrazione, che ovviamente significano questa, e confermano questa battuta dal resto. Le esportazioni sulla base dei dati provvisori pubblicati da Istat si sono attestate nel 2023 ad oltre 10,7 miliardi di euro, il 18,7 del totale regionale, a pesare sulla leggera frenata i metalli preziosi, voce principale dell'export a retino. Come sappiamo, l'oro ovviamente è condizionato tantissimo da un valore che ha avuto delle impennate ultimamente fortissime, e che quindi ha generato, ovviamente, delle conseguenti, diciamo, valori di mercato che hanno ridotto un po' il valore in assoluto. Se guardiamo il mercato della gioielleria, invece, cresce fortemente, addirittura del 9,6%, quindi un dato importantissimo che quindi fa vedere una industria, una manifattura assolutamente in salute. Possiamo registrare un buon risultato con un aumento del 22%, dell'industria, ad esempio, meccanica, quindi delle macchine, della robotica, che è un'altra, diciamo, dei nostri player importanti del nostro territorio. L'agroalimentare cresce in senso positivo. Il vino, purtroppo, ma come è generalizzato anche rispetto ad altre province, ha una battuta d'arresto con una riduzione di circa l'8%, ovviamente sul dato annuale. Ed è stato approvato dalla giunta del comune di Arezzo il piano triennale delle assunzioni 2024-2026, un atto che permette all'ente di dotarsi già dall'anno in corso di 25 nuovi dipendenti che vanno ad incrementare la dotazione di personale di uffici e servizi. Ne hanno spiegato i contenuti il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e l'assessore al personale Giovanna Carlettini. Si tratta in primis di nove agenti della Polizia Municipale, di cinque addetti alla manutenzione, di sei amministrativi, di cui quattro funzionari e due istruttori, e cinque tecnici, di cui tre geometri e due ingegneri. In questo quadro vanno inoltre annoverate due unità che saranno assunte a tempo determinato all'ufficio elettorale in vista della tornata europea di giugno e due tirocini per giovani laureati con l'amministrazione comunale che traccerà così la strada per la loro prima importante esperienza professionale. E adesso spostiamoci a Cortona. Grazie alla donazione di un mecenate anonimo cortonese sarà possibile ridare l'antico splendore alla lunetta del Beato Angelico della Chiesa di San Domenico che si trova sul frontone della Chiesa. Questa lunetta e l'annunciazione custodita al Museo Diocesano rappresentano le uniche due opere a Cortona del pittore attivo nella prima metà del Quattrocento. E torniamo invece ad Arezzo dove è stato inaugurato oggi il restauro della Chiesa in Santa Maria Ingradi, ad Arezzo appunto che torna ad essere aperta al culto dopo la chiusura avvenuta nel dicembre del 2022 proprio per consentire i lavori. Vediamo. Dopo un lungo e complesso intervento la Chiesa di Santa Maria Ingradi ad Arezzo importante per il culto ma anche per le opere che custodisce al suo interno è stata restituita alla cittadinanza. Questa Chiesa è legata a Camaldoli e quindi è un segno di una religiosità che ci appartiene e che lascia tracce che vogliamo conservare, custodire, proporre e quindi ecco penso che per la comunità retina ha una particolarità di significato che possiamo raccogliere. Il primo restauro conservativo dell'intera facciata nel 2013 fu in quella occasione che balzò agli occhi dei tecnici un vistoso fuori piombo della parte centrale tanto da creare un arco con le spalle in corrispondenza dei tiranti. Nel 2021 erano partiti i lavori per ovviare a questo problema ma la pandemia li ha fortemente ritardati. L'intervento ora è stato portato a termine 300 mila euro ai fondi stanziati da parte del Ministero 80 mila, quelli della Curia Aretina. Le problematiche erano numerose le principali riguardavano le strutture di copertura quindi c'è stata la necessità di progettare un intervento di miglioramento sismico e di consolidamento statico. Tutto questo a valle di un percorso di verifica della vulnerabilità dell'immobile. Io praticamente qui ho fatto la prima comunione quindi è una grande soddisfazione vederla restaurata però è una chiesa molto importante nella storia dell'Arezzo c'è il pozzo dove la tradizione dice che San Donato si diffusava durante le persecuzioni quindi è un luogo sacro per gli arretini quindi va rivalutato. Senz'altro la cosa più sentita è la piccola cripta che dovrebbe essere l'abside della chiesa più antica sulla quale poi è stata costruita quella attuale dove è custodito un piccolo crocifisso di legno molto antico e prezioso per quanto come opera d'arte non sia magari particolarmente significativa però è importante per i parrocchiani c'è una grande devozione viene chiamato il crocifisso della tomba e negli anni ecco nella cripta tanti piccoli momenti di preghiera gruppi ristretti di meditazione a margine della cerimonia di inaugurazione Don Luca ha voluto esprimere un pensiero per il ragazzo di 26 anni morto in una panchina nei giardini del Porcinai ad Arezzo è un dramma che ci provoca a tutti a tutti i livelli come istituzioni come comunità generale e come chiesa in particolare che è quello che interessa a me significa che in questa città ci sono dei bisogni importanti che ancora non siamo capaci di a cui non siamo capaci di dare risposta non dico di soddisfare ma un minimo di risposta significa che c'è ancora da fare per tante persone bisognose e nel momento in cui si festeggia la casa di Dio non possiamo non pensare agli uomini e alle donne senza casa e ad Arezzo si è tornati a parlare di autismo e del futuro dei ragazzi una volta terminate le scuole superiori che devono affrontare poi il mondo del lavoro il servizio la disabilità raccontata da chi la vive è arrivato anche ad Arezzo un importante confronto su questo tema grazie alla presentazione del libro di Davide Faraone presidente della fondazione Autismo Italia e padre di Sara giovane ragazza autistica come si fa ad imparare a guardare il mondo con gli occhi di questi ragazzi perché probabilmente ci aiuterebbe a tutta la società civile ovviamente prima di tutto al mondo politico ma insomma chi deve un po' anche cambiare le regole ma intanto io sono stato fortunato da questo punto di vista tra virgolette perché sono padre di Sara una ragazza autistica e quindi sono stato tra virgolette costretto a guardare coi suoi occhi non potevo permettermi superficialità abbandoni negligenze ho dovuto affrontare con profondità quello che prima invece magari avrei affrontato con superficialità quello che accade normalmente a ognuno di noi c'era un Davide prima della conoscenza dell'autismo un Davide dopo e quella profondità che mi ha fatto scoprire mia figlia a me è utile complessivamente nelle relazioni con tutti gli altri perché se riesci a costruire relazioni difficili poi quelle più semplici sembrano un gioco a ragazzi l'incontro ha visto mettersi insieme quattro associazioni del territorio Autismo Arezzo Fondazione Riconoscersi Crescere e Toscanabile si è parlato di disabilità dando voce a chi la realtà la vive tutti i giorni un'esperienza del genere ci fa tirar fuori forse il meglio di noi nel senso che ci chiede amore e noi glielo diamo ecco io per quanto mi riguarda mi ritengo fortunato Lo Spartiacque per queste famiglie che chiedono a gran voce una vera inclusione è il termine del ciclo scolastico in Italia la risposta è quasi sempre un centro diurno ma noi dicono le famiglie non la vogliamo accettare i nostri figli possono essere inseriti in un percorso di vita anche lavorativo le leggi non mancano naturalmente bisogna rispettare quello che nella Costituzione c'è scritto nelle leggi dello Stato esiste una bellissima legge da 328 del 2000 che parla di presa in carico dalla diagnosi fino al dopo di noi se facessimo diventare concreta quella legge mettendoci dentro naturalmente le risorse saremmo a posto il problema è che in questo paese molto spesso in gazzetta ufficiale c'è scritta una cosa nella realtà c'è tutta un'altra storia manca la realtà dell'impresa cioè le imprese ancora non sono totalmente pronte a fare il passo manca un piccolo passo un piccolo sforzo da parte delle imprese perché ci manca l'aggancio quindi noi da parte nostra nel caso ad esempio nostro abbiamo creato una cooperativa lavoro ma se dall'altra parte poi non c'è l'impresa che ci fornisce lavoro o che ci prende poi i ragazzi una volta che hanno fatto il tirocinio formativo siamo fermi un'altra volta quindi più di lì non si va il sistema tende a non ascoltare i diretti interessati ma semplicemente a fare un ragionamento quasi economico oppure formale oppure burocratico quindi però dietro a quei numeri dietro a quelle decisioni ci sono famiglie e ci sono poi i bambini i ragazzi uomini e donne e adesso alcuni appuntamenti partiamo con il fumetto perché l'associazione culturale fumetti ed intorni di Fucecchio torna per la quarta edizione ad Arezzo della fiera del disco e del fumetto patrocinata dal comune la manifestazione è in programma sabato 16 e domenica 17 dalle 10 alle 17 nel padiglione 6 del centro affari sarà presente con i suoi lavori il disegnatore della casa editrice Bonelli Marcello Mangiantini che in edicola esce come Zagor Marcello Mangiantini incontrerà il pubblico e porterà delle copie che autograferà e chi vorrà acquistare il suo disegno altro ospite è il disegnatore aretino Fabio Civitelli che domenica dalle 10 alle 17 esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori che verranno poi messi in vendita e durante il pomeriggio incontrerà il pubblico con altri illustri colleghi aretini ed altri disegnatori e adesso parliamo di teatro perché appunto al teatro Petrarca di Arezzo è andato in scena un classico di Goldoni il giocatore un grande classico come Goldoni sul palco dal teatro dal teatro Petrarca in scena lo spettacolo il giocatore è un vivido studio di caratteri tratteggiati con brio e precisione che compongono il ritratto di un'intera società con le sue virtù ma soprattutto i suoi vizi come tutti i grandi drammaturghi scrittori pittori autori artisti più che l'attualità è la contemporaneità laddove per me contemporaneità voglio dire tu guardi un quadro che era già 50 anni avanti 50 anni fa e Goldoni con i suoi scritti con le sue tematiche da qui a 50 anni sarà ancora contemporaneo cioè va oltre veramente l'attualità un testo sempre emilico tra commedia e dramma di una modernità sconcertante Goldoni ha una sua arte ovviamente di racconto per cui riesce a inserire un percorso nero però all'interno sempre di una situazione divertente quindi riesce a trasmettere questo modo di essere che è una tossicità che è una droga diciamo in una maniera che non è respingente per il pubblico e quindi fa empatizzare con una problematica e non toglie solo per i suoi 120 zecchini di camara ma grazie ma grazie eeeh portatevi la borsa con i 200 zecchini al centro dello spettacolo c'è Florindo che divorato dalla passione per il gioco perde tutto i soldi le amicizie e l'avore della promessa sposa e non esita a garantire di prendere moglie la vecchia e ricca Gandolfa pur di ottenere soldi per giocare ancora e continuare a sognare la vincita favolosa 400 zecchini in ora andate a parlare con il suo pantalone ma non abbiamo ma che pantalone la signora lo sa ma aspetta ma le ditte anche le donne c'è una donna che appunto stacca l'assegno e dice ok io voglio questa persona vuole pensare di comprare questa persona e comprare anche la gioventù ma poi non sarà così e io ne voglio ancora di vita ancora adesso tocca a me dal teatro alleno gastronomia valorizzare la carne di razza chianina certificata di tellore bianco dell'appennino centrale IGP attraverso il suo legame con il territorio di origine ed un corretto utilizzo in cucina per apprezzarne al meglio la qualità con questi obiettivi il consorzio di tutela vitellone bianco dell'appennino centrale IGP e l'associazione amici della chianina hanno organizzato la terza edizione di chianina in tavola in tour che fa parte del progetto la valle del gigante bianco nato nel 2005 l'iniziativa proporrà con una formula consolidata nelle prime due edizioni sei cene incontro in programma dal 15 marzo al 16 maggio in sei ristoranti della Valdichiana Senese e Aretina aperte a operatori di settore allevatori gastronauti a tutti coloro che amano la carne chianina certificata vitellone bianco dell'appennino centrale i menù delle sei serate saranno presentati da qualificati chef dell'unione regionale cuochi toscani che lavoreranno in tandem ad ogni appuntamento si tratta di Katia Maccari Silvia Baracchi Mattia Puzzulu Emiliano Rossi Walter Radaelli e Roberto Lodovicchi le cene incontro prenderanno il via proprio venerdì 15 marzo con lo chef Radaelli del ristorante Walter Radaelli di Bettolle che ospiterà nella sua cucina lo chef cortonese Emiliano Rossi dell'Osteria del Teatro e adesso occupiamoci di sport parliamo del successo internazionale di kickboxing per l'aretino Lorenzo Corsetti il 25enne atleta del team Giacchini ha vissuto una trasferta in Inghilterra per combattere alla championship kickboxing di Barnsley dove ha incrociato i guantoni nei 75 kg di Khan Haider campione britannico sostenuto dal tifo di oltre 3.000 spettatori in questo delicato scenario Corsetti ha dimostrato la giusta combinazione tra tecnica e carattere per essere protagonista di un incontro di altissimo livello che ha terminato con una convincente vittoria a punti e che legittima ora l'ambizione di lanciare l'assalto al titolo europeo e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci